e poi e quindi a Hiroshima è benvenuto in Giappone, a Hiroshima. Sono molto felice di poter piaccogliere qui alla mia città. E poi esprimo le mie condolente ai danni causati soprattutto dalle vittime dal Marcento in Emilia Romagna. Preghiamo per una promontare il prezzo. In occasione della mia vista in Italia, questo gennaio, abbiamo deciso di elevare i nostri apporti bilaterali all'angolo di partenariato strategico. Desidero ulteriormente comprensere le nostre cooperazioni. Al riguardo sono molto lieto che i negoziati dei raccordi di coproduzione cinematografica tra Giappone e Italia hanno giunto ad ogni intesa. La mia ferma intenzione è la collaborazione con l'Italia che assume soprattutto la presidenza del G7 del Marcento. Adesso non mi fa l'ora di iniziare la nostra discussione. Grazie davvero Fumio, sono molto molto contenta di essere qui. Voglio farti le mie congratulazioni per la determinazione e la serietà con la quale stai gestendo la presidenza giapponese del G7 in un anno sicuramente non facile, in un contesto non facile. E ovviamente, come tu hai ricordato, essendo l'Italia il prossimo presidente, è fondamentale ancora di più che la nostra cooperazione sia molto stretta. Noi siamo due potenze regionali che hanno ruoli di responsabilità insieme agli altri membri del G7 in questa fase e è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza e per la sicurezza economica. Sono molto contenta della concretezza con la quale abbiamo dato seguito agli impegni che ci eravamo assunti quando a gennaio, con la tua visita a Roma, abbiamo elevato i nostri rapporti a partenariato strategico. Grazie.